E' uno schema, vediamo, proprio Faraoni va a cercare la conclusione in rete, con deviazione, con deviazione, forse da parte di Davidoviz, che riceve l'abbraccio, lì davanti alla porta, il Rui Patrizio spiazzato, lo schema, la conclusione da lontanissimo, di Davide Faraoni, e lì davanti la deviazione di Davidoviz per il Verona, che passa in vantaggio, un po' a sorpresa. Contro una Roma troppo flemmatica, che aveva costruito le occasioni migliori, ma troppo ferma, anche in questa occasione. Verona 1, Roma 0, è il 27esimo. Ha avuto tanto spazio per la conclusione, il Verona, sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, battuto da Veloso, uno schema, palla raso terra, arrivata a circa 20 metri, molto spazio, molto tempo per caricare il tiro da parte di Faraoni. Poi due giocatori davanti alla porta, difesa da Rui Patrizio, erano Henri e Davidoviz. Intanto vediamo, si discute della posizione del giocatore polacco del Verona, che è stato l'ultimo a toccare. I giocatori della Roma che circondano Sacchi al VAR sono Maresca e Aureliano. Certo da rivedere questa occasione. Arriva anche Rui Patrizio, lì nel cerchio centrale del campo. Bisogna capire se Davidoviz fosse tenuto in gioco da qualche difensore della Roma. E' stato lui l'ultimo a toccare. Sbaglia tutto, Camarà li ruba il pallone. Camarà, Camarà, poi Ebram, conclusione, palo, Zaniolo, rete. Ha pareggiato la Roma, ha pareggiato la Roma con Niccolò Zaniolo. Erroraccio da parte di Tamese, che adesso viene consolato da Ongla. Aveva sbagliato ancora Ebram, però sul palo, sulla ribattuta, è arrivato Zaniolo, libero di mettere il pallone in rete, il pareggio della Roma. Zaniolo torna a segnare in campionato dopo oltre nove mesi. Verona 1, Roma 1, 47esimo nel bene, nel male. E la partita di Niccolò Zaniolo, almeno fino a questo momento. Sì, sì Daniele, assolutamente d'accordo, anche perché è lui che ha subito il fallo che ha portato al cartellino rosso di Davidoviz e lui che finalmente... Lo blocca addirittura José Murigno al volo per accelerare le operazioni, la rimessa che è stata già battuta. Matic largo sulla sinistra, Matic che prova ad andare via, Gunter su di lui, Matic, una dribbling, mette a sedere Gunter. Poi la conclusione, la rete di Volpato, ancora lui, come lo scorso anno, trova l'angolino, porta in vantaggio la Roma e tutti a fare festa sotto al settore ribollente giallo-rosso. Ha segnato Volpato e la Roma in vantaggio, Verona 1, Roma 2, il 44esimo. E ancora una volta il finale rischia di costare veramente caro al Verona, ottimo spunto di Matic che ha lasciato sul posto Magnani, ha alzato la testa una volta entrato in un'area di rigore, ha preso comunque almeno mezzo metro abbondante al difensore del Verona, ha alzato la testa, dicevo il traversone, bravissimo ad angolare, a trovare la conclusione giusta, la conclusione di Vincente Volpato, nulla da fare per Montipò, palla molto precisa, palla bassa, palla angolata, non c'è stato niente da fare. Però grande spunto di Matic e vorrei sottolineare come l'azione sia partita da un eccellente controllo di prima intenzione di Abram, si è fermata su una rimessa laterale, ma proprio dagli sviluppi di quella rimessa laterale che è arrivato allo spunto di Matic che ha portato al gol di Volpato. Ha un gran gol quello di Volpato perché veramente va di prima intenzione a cercare... E che mette il pallone in rete, dopo aver scavalcato Montipò il 3 a 1, la chiude il Sharawi, un tocco delicato a scavalcare Montipò, poi l'appoggio in rete. Verona 1, Roma 3, la partita che si chiude, 47esimo. La chiude il Sharawi, d'altronde il Verona ha speso tantissimo, ha giocato più di un tempo, in inferiorità numerica adesso la formazione guidata da José Mourinho ha veramente praterie davanti a sé. L'abbiamo visto prima, l'ingresso in campo di Mourinho per un metro e per la sua rabbia era perché la Roma aveva sostanzialmente un 5 contro 2 potenziale, in contropiede e avrebbe chiuso la partita. Si è trattato soltanto di aspettare un paio di minuti e chiaramente questo Verona in queste condizioni non può fare di più. Ha retto veramente tanto, non ha prodotto perché non poteva produrre in fase offensiva, però è riuscito a reggere l'impatto della Roma di una squadra superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma col gol segnato all'ottantanonvesimo da Volpato sono crollate tutte le resistenze. Ci sono i complimenti per El Sharaoui da parte del capitano di Lorenzo Pellegrini, El Sharaoui che fa segno alla panchina della Roma di restare calma, giocatori che sono tutti in piedi, magari sì sul gioco, su alcune situazioni ci sarà tanto da lavorare e lo sa bene José Mourinho, ma questo è il modo migliore per la Roma per entrare in questa settimana, settimana decisiva per l'Europa, per l'Europa League, giovedì, ricordo ancora il Ludo Goretz all'Olimpico in quello che è a mettere in difficoltà la Roma, adesso attacca quando è troppo tardi il Verona, però come hai detto tu Dario giustamente non poteva fare forse di più l'impostazione, l'atteggiamento, la strategia anche. È stato tutto quanto adeguato alle condizioni, all'interiorità numerica, arrivata già alla fine del primo tempo con l'espulsione di Davidoviz, calcio d'angolo, pallone ancora giocato da Volpato e altra possibilità per un altro contropiede della Roma, può correre il giocatore, Velotti intanto sulla destra in mezzo, Pellegrini, un dribbling, però il pallone resta lì, poi spazza via Gunter, aveva cercato di dribblare sulle mani a Lorenzo Pellegrini, pallone che finisce tra i piedi di Ibanez, lo gioca all'indietro, ancora Volpato gran protagonista, il suo ingresso in campo all'inizio della ripresa è stato solo il gol decisivo, poi è arrivato anche il gol dell'E3, uno di El Sharaoui e tra l'altro sul gol di El Sharaoui l'assist, almeno l'intuizione, quel passaggio in profondità nello spazio, ha visto il corridoio giusto, Cristiano Volpato è mandato in rete, Stefan El Sharaoui, Carzor pallini dietro, possesso palla della Roma, Verona 1, Roma 3 manca veramente pochissimo, alla fine del recupero il commento di Dario Giorgo, è finita la partita intanto, scusami. E alla fine ha avuto ragione José Muregno, decisivi i cambi fatti nella ripresa, l'ingresso di Volpato, l'autore del gol che sostanzialmente ha consegnato i tre punti, alla Roma ha servito da Matic, anche lui ingresso nel corso del secondo tempo, e poi la rete della staffa segnata da Stefan El Sharaoui, anche lui è entrato nel secondo tempo. Se guardiamo le occasioni, se facciamo il conto delle occasioni, la vittoria della Roma è meritata, ma chiaramente l'espulsione di Davidovic nel corso del primo tempo ha cambiato il volto della partita, quella del Verona sarebbe stata comunque una partita di attesa, giocata sulla Roma, chiaramente affrontare il match oltre un'ora in dieci uomini ha stravolto completamente il piano tattico di Bocchetti. Il fortino del Verona ha retto quasi per 90 minuti, poi è arrivata l'intuizione di Matic e la conclusione di prima intenzione di Volpato che regala la Roma un'importante vittoria che vale il quarto posto in solitudine in classifica.